Marilungo, è stato molto molto chiaro in conferenza il tecnico Auteri, ha detto ora contro l'Olbia serve solo la vittoria. Sì, è chiaro perché veniamo da un periodo dove i punti un po' sono mancati, quindi la fortuna della Serie C è che si gioca spesso e sempre, quindi abbiamo subito un'altra partita, ora dobbiamo fare per forza tre punti per provare a riagganciarci alla vetta. Con questo nuovo sistema di gioco, i tre centrocampisti e tanta fantasia lì davanti, puoi anche sviluppare meglio quelle che sono le tue caratteristiche di giocare dietro la punta? Oh, non lo so, vedremo, quello è poco importante ora, modo l'ho a parte, quello che deciderà il mister, dobbiamo solo pensare a tornare alla vittoria e basta. Tanta esperienza di Guido Marilungo, il Pescara ora è un po' indietro, come si riesce a recuperare questo gap da Reggiana, Modena, Cesena? Quando sei indietro devi vincere, sperando che davanti facciano qualche passo falso, così ti dà anche un po' di morale in più per fare questa piccola rincorsa, anche se il campionato è ancora lungo. L'ultima, tanta esperienza hai, quindi mi rispondi sincero, ti aspettavi un utilizzo maggiore per te quest'anno? Sicuramente sì, però il calcio c'è anche questo, siamo tanti attaccanti e il mister sceglie quelli che secondo lui possono servire maggiormente in ogni partita, quindi aspetto e basta.